Il porto commerciale di Salerno farà registrare un incremento medio di oltre il 10% rispetto al 2010 nel totale delle merci movimentate, attestandosi oltre i 10 milioni di tonnellate. Per il traffico passeggeri si stima rispetto al 2010 un incremento di circa il 10%, dovuto soprattutto all'aumento dei collegamenti intercostieri delle vie del mare. E per il 2012 si prevede un significativo incremento nel settore croceristico, in quanto le richieste di approdo di primarie compagnie di navigazione superano del 60% quelle pervenute nel 2010. L'ho annunciato stamani nel corso del consueto bilancio di fine anno, il presidente dell'autorità portuale di Salerno Andrea Annunziata, che ha sottolineato anche le strategie commerciali messe in campo per il 2012 e gli interventi infrastrutturali più significativi avviati e quelli che partiranno proprio con l'anno nuovo. Il bilancio è più che positivo, molto positivo, perché registriamo insieme a pochi altri porti europei una crescita continua. Già rispetto al 2010, che è stato l'anno del grande recupero, abbiamo in media un più 10-12-13% per le merci, aumentiamo sempre di più per il settore croceristico e per le vie del mare, insomma i numeri crescono sempre di più. Il porto è ormai super pieno, se avessimo un altro porto uguale lo riempiremo lo stesso in questo momento. Abbiamo grandi prospettive, credo che tutto questo sia dovuto a diversi fattori. Un lavoro di sinergie importante fatto continuamente con il Comune e con la provincia, un'accoglienza di altissimo livello sul piano umano, sul piano dell'interesse commerciale, turistico dei cittadini, della gente di Salerno e della provincia e di questa regione, dove posso dire, e poi insieme a questa attività che abbiamo svolto in quest'anno e negli ultimi 2-3 anni in tutto il mondo. Un'azione di propaganda di questa bella città, di questa nostra provincia, con le sue bellezze naturali e con quanto può offrire sul piano dei prodotti tipici, sul piano commerciale e industriale.